Qui devono sorgere 90 alloggi definitivi e non provvisori per chi vive ancora in uno stato di emarginazione sociale, per gli abitanti delle vele che da molto tempo attendono una risposta concreta. A gennaio, dopo le necessarie attività propedeutiche sui terreni, cominceranno i lavori in via Gobetti e nell'area dell'ex Vela Verde sorgeranno poi altri alloggi, saranno 433 dopo l'abbattimento della vela gialla e di quella rossa. In particolare la prima vela che va giù è la vela gialla che deve appunto essere demolita entro la fine del 2024. Un complesso meccanismo che deve rispettare i tempi precisi perché i fondi di Restart, Scampia restino in gran parte nel piano nazionale ripresa e resilienza. Effettivamente è un complesso meccanismo perché tutta l'esecuzione dei lavori è un'alternanza di nuova edificazione di parti, quindi nuovi alloggi, nuovi servizi, trasferimento di famiglie che andranno naturalmente ad abitare nei nuovi alloggi, demolizione di quello che si lasciano alle spalle. A testimoniare il passato ci sarà solo riqualificata la vela celeste, oggetto di concorso di idee. 152 milioni per Restart, Scampia 99 attengono a vario titolo al piano nazionale ripresa e resilienza e le prime due fasi da chiudere entro il 2026. Sentiamo ancora di più la responsabilità nei confronti innanzitutto di quelle comunità rispetto alla tenuta diciamo delle scadenze. Ovviamente c'è un processo ancora lungo e tortuoso, bisogna far sentire ancora la nostra voce, c'è una volontà politica che spinge da parte dell'amministrazione a fare in modo che si rispettino i tempi e ben venga.